salve a tutti bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi di questo nuovo video in tre passaggi ti spiego come personalizzare il tuo puntatore del mouse sul desktop ovviamente andremo a scaricare così un'icona del mouse andremo anche a mettere sul mouse anche un po di luce e poi ridimensionare così il puntatore ovviamente se andiamo un attimo su dimensioni puntatore mouse qui sopra tu puoi regolare la dimensione del tuo puntatore e scegliere così il colore come preferisci scegli un altro colore e io metto questo colore metto rosso faccio fatto ed esce un colore bello forte un colore rosso sul puntatore del mouse ovviamente visto che è troppo grande anche molto piccolo quindi facciamo di questa dimensione chiudiamo qua e andiamo su microsoft store e c'è un'applicazione che si chiama ed eccolo qua mouse pointer eye glide questo qua e faccio apri come puoi vedere esce così un pallino giallo sul puntatore del mouse e se abilitate quest'altra opzione ovviamente ogni volta che andrete a cliccare qualcosa uscirà un cerchio rosso oppure di qualsiasi colore come preferite voi ecco un ultimo passaggio in descrizione ho lasciato un link che ti porterà sulla pagina per scaricare tutti i puntatori del mouse che vuoi quindi questa è la pagina i cursori del mouse c'è tutta la libreria tutti puntatori del mouse che volete quindi io a voi vi lascio scegliere il vostro puntatore del mouse quindi quello che devi fare è scaricare un puntatore quindi avendo cercato questo fate su scarica vi scaricherà così il pacchetto rar dovete estrarre questo pacchetto rar con winrar extract to questo qua ecco la cartella entrate nella cartella ed eccoli qua i puntatori che avete scaricato e per impostare questi puntatori vai su cambio aspetto puntatore del mouse vai su puntatori fai sfoglia desktop e vai a trovare la tua cartella ed eccolo qua puoi mettere il tuo puntatore faccio apri e faccio applica ed ecco il puntatore del mouse che lampeggia oppure proviamo quest'altro faccio applica non so neanche cos'è questo non è neanche un puntatore tanti puntatori collegati insieme tutti e quattro come puoi vedere tutti e quattro quindi quello che normale mi serve quello normale questo qua ed eccolo qua quindi in tre passaggi ti ho spiegato come personalizzare e dimensionare così il puntatore del mouse e cambiare anche così un po' il colore e anche l'icona del puntatore e mettere anche sopra un po' di luce quando vai a cliccare su qualche applicazione ed esce un cerchio di quel colore e basta quindi se questo video ti è stato utilissimo il link per scaricare tutti i puntatori sta in descrizione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao